Riunione 022, settore e industrie chimiche, gruppo A, relazione sugli incrementi di produzione settimanali. Prego. Fabbriche farmaceutiche, 23%. Fabbriche di anticoncezionali, 36%. Gruppi di chimica bellica, 125%. Fabbriche di detersivi, 0,09%. Cause? Timore per l'inquinamento delle acque. Le massaie hanno paura per la salute dei loro figli. Rimedi? Un nuovo detersivo biodegradabile. I nostri chimici... Lei dimentica che abbiamo 500.000 tonnellate di scorte. Inoltre, i nostri chimici hanno problemi più gravi da risolvere. Metteremo il vecchio detersivo in una confezione nuova. Signori, pensate a un nuovo nome. La regia del consenso. Come si coltiva l'ottimismo. Come si coltiva l'ottimismo. Il consumatore va aggredito quando meno se lo aspetta. Nell'intimità del soggiorno, della cucina, della camera da letto. Narcisismo di massa. Narcisismo di massa. Attacco all'inconscio. Attacco all'inconscio. I capricci del consumatore. I capricci del consumatore. La materia su cui lavoriamo è la sostanza stessa di cui è fatta la mente umana. I simboli del prestigio. I simboli del prestigio. Gli ami vengono calati. Gli ami vengono calati. L'anima in scatola. L'anima in scatola. Immacolato. Vergine. Pulì. Gaga. No biologico. Cando. Cin cin. Fresh. Biancus biancus. No signori. Questo nome deve cancellare ogni timore di inquinamento delle acque. Si chiamerà acqua pulita. E lo slogan sarà dei panni e del mare preserva la vita e acqua pulita. Bello. Geniale. Coerente. Sublime. Violento. Subliminare. Divino. Bermaniano. E.